Partiamo signori con dei piccoli ricordi. Era la notte tra il 7 e l'8 febbraio 2020 quando Bugo lasciava il palco dell'Ariston e il suo compagno di duetto Morgan, reo di aver modificato il testo del brano sincero. Vi ricordate, vero? L'episodio ebbe una risonanza assolutamente sopra la media, con il dove è Bugo e la caccia all'uomo di Fiorello diventati virali, molto virali, anzi quasi iconici in quell'edizione della Kermess, oggetto di meme e quant'altro. A più di due anni da quella notte Morgan sembra non essersi ancora scrollato di dosso una sorta di polemica ossessiva nei confronti di Sanremo, di cui ha continuato a parlare in maniera negativa. Questa volta è toccata da Amadeus perché in una intervista al Corriere della Sera il leader dei Blu Vertigo ha criticato apertamente il conduttore, andandolo proprio ad accusare di non avere assolutamente la qualità necessaria per essere il direttore artistico della manifestazione, ruolo per cui servirebbe diciamo un titolo di studio. Con ancora più di sei mesi di attesa per Sanremo 2023, ad alzare i toni ci ha dunque già pensato Morgan e sul Corriere della Sera il cantante non le ha mandate di certo a dire ad Amadeus, raccontando di essere stato escluso dall'edizione 2021 dal presentatore direttore artistico della Kermess che, almeno secondo Morgan, gli avrebbe preferito Bugo dopo l'enorme eco dell'edizione precedente. Mi aveva voluto nel suo programma Ama Sanremo, dove selezionava le giovani proposte perché sa che sono bravo a farlo, poi però ha dimenticato il rispetto per la persona e ha fatto gli interessi dei discografici. Quindi signori, secondo il cantante dei Blu Vertigo, per il ruolo di direttore artistico a Sanremo sarebbe dunque necessario una sorta di attestato. Ci vorrebbe un titolo di studio per essere direttori artistici del festival? Amadeus non lo ha, eppure lo fa da quattro anni. E su questo, su tutto ciò, non sono mancate parole stizuose anche nei confronti del collega ed ex amico Cristian Bugatti in arte Bugo, dicendo di Bugo non mi interessa nulla, piuttosto era lui ad essere ossessionato dal successo tanto da passare anche sopra un amico. E questo, signori, andando a concludere con questo discorso, è tutto per queste polemiche, almeno per ora, poi se spunterà fuori qualcos'altro ve lo farò sapere con un aggiornamento. Per ora è tutto, un saluto grande da Max e al prossimo video!